La criticità maggiore per quello che riguarda la scuola, non specificamente in questo periodo ma un po' sempre, è il ripiegamento sia degli insegnanti che anche degli studenti, chiaramente dipende dall'atteggiamento degli insegnanti, semplicemente sugli argomenti di studio e quindi l'autoreferenzialità, mentre invece ci rendiamo conto che in una situazione, in un frangente come questo, la scuola può e deve diventare il lievito per un'idea e un fare anche alternativi, come diceva prima Costanza Spera. Da questo punto di vista ci sono ancora tantissime energie dentro la scuola pubblica, io posso fare l'esempio della mia in particolare, io lavoro al liceo scientifico Galileo ormai da tre anni e piano piano cerchiamo di costruire, di mettere in piedi questa condivisione del sapere che non si limita soltanto ai libri, al sapere libresco. Noi cerchiamo comunque di motivare gli studenti e le famiglie a leggerli, ad avere i contatti con i classici, sia magari invoiandoli, fornendo loro delle edizioni completamente gratuite online, sia poi magari cercando di convincere le famiglie a riparametrare la spesa, magari a spendere un po' meno per l'ultimo modello di cellulare e investire qualche cosa di più in letture. E poi la condivisione della cultura avviene anche per esempio attraverso i cineforum, che noi stiamo praticando sempre di più, anzi quest'anno abbiamo cominciato proprio all'insegna della condivisione di un cinema che non è quello commerciale, non è quello di cassetta e mi riferisco per esempio all'ultimo film di Martone sulla vita di Giacomo Leopardi, stiamo partecipando massicciamente a queste proiezioni, seguiranno poi dei forum che faremo a scuola e questo è un modo per far circolare l'alta cultura in termini popolari, in termini accessibili, in termini interessanti per i giovani. Quindi questo è il lavoro che facciamo a livello proprio del nostro ruolo di base, che è quello di trasmissione della cultura e dei saperi. Il fatto che il centro di Perugia in questi anni si sia un po' desertificato quanto all'offerta culturale, alle alternative vere per trascorrere il tempo in modo costruttivo e produttivo, questo vuoto è stato riempito anche dallo spaccio, anche da queste realtà e quindi cerchiamo di coinvolgere il maggior numero dei ragazzi in queste cose e poi un'altra cosa, stiamo organizzando un ciclo di conferenze per esempio sulla corruzione coinvolgendo a breve non soltanto gli studenti ma anche i loro genitori perché è vero che non è che la scuola può sconfiggere questo che è un fenomeno sistemico, endemico perché ci vorrebbero le regole, qui la responsabilità passa direttamente alla politica però è che è vero che noi possiamo fare molto per sensibilizzare dal basso gli studenti e le famiglie a riconoscere certi fenomeni e a cercare proprio di creare una pressione dal basso per superare. Finisco dicendo che per quello che riguarda la nostra apertura al territorio la parte che noi cerchiamo di fare per aiutare i ragazzi in un momento così difficile anche dal punto di vista economico è quello anche di utilizzare le scarsissime risorse che abbiamo e anche di chiederne altre con un sistema di sussidiarietà perché abbiamo finito per dover chiedere a causa di quest'Italia anche i soldi alle famiglie che però ce li danno volettieri perché stiamo organizzando delle cose potenziamento per esempio dell'inglese, insegnamento di materie che non siano la letteratura inglese in inglese per potenziare oppure dei corsi che servono ai giovani per affrontare per esempio i test che ormai sono pervasivi anche se non li dividiamo in toto ci sono, sono previsti dal protocollo di Lisbona sono una realtà, bisogna affrontarlo, le famiglie ce lo chiedono quindi ecco questo è tutto quello che cerchiamo di fare però è chiaro bisognerebbe essere in più soggetti, bisognerebbe veramente formare una rete e la scuola dovrebbe veramente cercare di relazionarsi il più possibile con tutte le altre realtà che sono in campo per gli stessi motivi Grazie a tutti Grazie a tutti